qui radio londra aldo dice 26 per 1 premessa questo video purtroppo deve contenere delle parole bizzarre o sinonimi in modo da poter eludere la censura una volta che è pubblicato su youtube e d'altronde che differenza fa se su una piattaforma mi censurano sull'altra dove non posso attivare degli anti spam mi insultano non è un problema per noi di radio londra essere insultati no noi sappiamo chi siamo perciò gli insulti non ci toccano perché non ci appartengono noi non siamo gli insulti che ci mandano è per evitare a quelli che mi insultano a quelli che ci insultano le conseguenze insultare le persone sagge non porta fortuna nella vita l'argomento che oggi vogliamo trattare alla di orondra è il bilancio del ministero della giustizia 2020 vogliamo ricordare agli ascoltatori che tutti gli anni proprio in questo periodo un tizio con la mantellina di ermellino si presentava davanti alle telecamere e diceva quest'anno trascorso il bilancio della giustizia è stato questo tot omicidi tot furti tot truffe tot criminali arrestati quante bande della criminalità organizzata arrestate prego gli ascoltatori di scrivere nei commenti eventualmente se questo bilancio della giustizia 2020 è stato reso pubblico e gentilmente mettete nei link nel commento perché sto aspettando questo bilancio della giustizia che in questo momento se non viene reso pubblico si può tranquillamente definire omissione omissione del racconto delle conseguenze dei provvedimenti presi dalla nostra classe dirigente qui a radio londra consideriamo classe dirigente tutti non facciamo una distinzione fra maggioranza al governo opposizione tutti tutti dal primo all'ultimo sono responsabili per noi qui a radio londra entriamo nel merito della questione che volevamo esporvi crediamo davvero che milioni e milioni di persone in coda per un pasto per sopravvivere non agiranno anche con il furto con la truffa crediamo davvero che un padre di famiglia per mantenere i propri figli trovandosi nelle circostanze non ruberà crediamo davvero che una madre di famiglia trovandosi nelle circostanze non si prostituisca e non mi si venga a dire che non ci si può prostituire perché non si può uscire di casa no è noto da tempo che con i social molte donne già prima di tutte queste tristi vicende utilizzavano appunto i social per organizzare gli appuntamenti nelle loro case quindi io voglio sapere la quantità di furti di truffe di comportamenti illegali collegati al bisogno di sopravvivere stanno accadendo bisogna comprendere che cos'è l'empatia che cos'è la sensibilità non esistono in patrope impattometri o sensibilità anche perché se fossero applicati alla cui parlante andrebbero in tilt io so mettermi nei panni di chi per sopravvivere si arrangia voglio farvi capire bene cosa vuol dire spirito di sopravvivenza avete presente quando inciampate e state cadendo per terra che cosa fate cosa facciamo tutti la prima cosa poniamo le mani avanti per difenderci dall'impatto della caduta è istintivo non è in base a un ragionamento logico non stai a ragionare mentre cadi perché se ragionassi picchieresti la testa e ti faresti parecchio male oppure ci lasceresti le piume voglio farvi degli esempi anche sempre per sostenere quanto sto affermando e cioè che a mio avviso nostro avviso qui a radio londra siamo sicuri che i reati sono aumentati basta parlare se volete con vostri conoscenti o parenti che lavorano nei supermercati o nelle grandi distribuzioni e vi diranno quanto quanto è aumentata l'incidenza dei furti di cose molto banali pane carne latte per bambini la pasta adesiva per le dentiere mi raccontavano recentemente di un episodio accaduto a una conoscente la quale si era recata a comprare in un grande supermercato uscita dal supermercato accanto alla sua macchina ha incontrato un signore distinto ben vestito mezza età il quale con molto garbo con molta gentilezza le ha fatto osservare che la gomma della sua macchina era a terra lei ha ringraziato contenta ho finalmente un po di cortesia nel mondo e ma per la macchina lascia dentro i sacchetti lasciala aperta la macchina non pensa a chiudere la macchina no lasciali la sua borsa documenti tutto e va aprire il porta bagagli per tirare fuori il cric per tirare fuori la gomma e riparare la gomma che effettivamente era a terra tempo che la signora tirasse fuori tutto quello che le serviva per cambiare la gomma ha guardato dentro la macchina era sparito tutto le borse della spesa la sua borsa tutto quello che ci aveva dentro ecco questa è la povertà questa è l'istinto di sopravvivenza quell'uomo noi non sappiamo se a casa non aveva dei bambini che avevano fame ora ma questi nostri connazionali che alle illari e trillari vanno sotto i video che la rai pubblica delle battute spiritose di fazio della litizzetto questa gente che definisce quella roba lì humor io lo chiamo horror questa gente ma credono davvero di poter essere felici in mezzo all'infelicità altrui ora non so voi ma noi qui a radio londra non ci siamo mai riusciti in tutta la vita a mantenere il buon umore mentre gli altri intorno piangono ma questi nostri connazionali credono davvero che questi provvedimenti presi dal governo comportino degli effetti collaterali accettabili sono sicuri sono sicuri questi connazionali che hanno il salario garantito la pensione garantita i risparmi garantiti sono sicuri che non verranno mai toccati dalla povertà altrui io al posto loro non sarei così sicura guardate un anno fa poteva avere una logica sentirci dire dalle classi dirigenti che questa disgrazia che è capitata alla nazione era imprevista poteva avere una sua logica sentirmi dire stiamo cercando di capire come fare qualche errore si può fare perché non era mai successo prima ma è passato un anno e ora questo ragionamento non sta più in piedi questo ragionamento non giustifica più le classi dirigenti da ora in poi care classe dirigenti di ogni conseguenza voi siete pienamente responsabili siete pienamente responsabili se credete che la vostra medicina che dovrebbe curare la disgrazia non comporti effetti collaterali comporterà degli effetti collaterali e li avremo sempre più chiari davanti agli occhi che che voi omettiate di raccontare alla popolazione il bilancio del ministero della giustizia è una responsabilità che adesso ha la classe dirigente non ci sono più giustificazioni qui radio londra aldo dice 26 per 1 non ci sono più giustizia è una responsabilità che non ci sono più giustizia è una responsabilità di capra da hai ai rammarasamone shah hai ravattavivana na hai aumkaravacchya aumkaravacchya Grazie a tutti.